Ciao amici di Fantapaz, oggi torniamo a parlare di una squadra che non ha cambiato l'allenatore, ovvero la Roma, ovviamente con De Rossi, naturalmente io prima di iniziare vi chiedo sempre un like e magari commento se volete dire la vostra anche sulla squadra, sull'analisi che stiamo facendo e che è sempre utile, insomma ci fa piacere avere dei botte e risposte eventualmente. E naturalmente di iscrivervi perché comunque tanti saranno i video e quindi per essere sempre informati cerchiamo di mantenere una certa programmazione negli orari, cercheremo di metterlo sempre a quest'ora, però insomma iscriversi è sempre meglio per avere poi con la campanellina l'idea di quando escono i video. Fatta questa premessa parliamo di De Rossi, insomma penso che avrete visto tutti il finale di stagione, la Roma è cambiata, ha fatto tantissimi risultati positivi rispetto alla precedente gestione che ormai portava stancamente a un livello basso, insomma dopo due stagioni non brillantissime. In realtà il risultato poi finale non è stato tanto tanto migliore perché poi appunto c'è stato il sesto posto finale, la semifichere di Europa League, però insomma come a livello di gioco, almeno all'inizio, poi nel finale forse la squadra si era un po' stancata, non brillava e devo dire che la verità non era poi comunque perfetta per le idee di gioco di De Rossi, insomma la squadra è stata costruita per Mourinho, quindi è anche giusto, questo è il primo vero anno in cui De Rossi dovrà avere, vorrà avere i giocatori che vuole, l'ha detto tante volte in conferenza stampa, vuole giocatori veloci che saltano l'uomo, e qui manca veramente, c'è solamente il Sharawi come esterno che salta l'uomo e poi ovviamente c'è Di Bala che però è ben grado ovviamente di saltare l'uomo ma anche altre caratteristiche, non è proprio un esterno. Se ne va via Lukaku, quindi se arriverà un centro avanti, arriverà sicuramente almeno un esterno, devo dire la verità io sarei curioso di, in epoca europei, solite discussioni italiani e non italiani, io sarei, mi è molto piaciuto quando la Roma ha preso Baldanzi, però gli darei un po' più di fiducia, anche se comunque lui non è appunto, non è un esterno, anzi è un trequartista, o comunque un centrocampista offensivo e quindi non è propriamente l'ideale per lui, però si può adattare, insomma, è vero che fisicamente non è forte come altri, però è vero che ha anche una tecnica veramente interessante, quindi non va bocciato alla prima partita negativa, perché poi non lo facciamo con gli stranieri e perché dobbiamo farlo con gli italiani, però, insomma, tratta questa premessa generale, 4-3-3 o 4-2-3-1 sono i moduli che piacciono a De Rossi, appunto con due esterni veloci che saltano l'uomo, ci sono fatti mille nomi e forse da oggi fino al 15 agosto se ne faranno altri, e centrocampo invece serve un giocatore comunque di gamba, forse Bove non è stato proprio, non è proprio l'ideale per lui, per De Rossi, terzino, Selic è andato abbastanza bene, forse Karsdop andrà via, a sinistra è stato riscattato anche Ligno, la difesa comunque potrebbe arrivare qualcuno di esperienza, e porta a svilare, è stata una bella intuizione, si è confermato benissimo, servirà solamente un secondo, insomma. e diciamo che comunque l'idea è quella, insomma, l'idea di De Rossi è appunto ancora di più, se andiamo a vedere appunto, è quasi una delle squadre che fa più passaggi, quindi più palleggio, è vero che lui cerca anche molto la verticalizzazione, però, comunque ci vuole arrivare attraverso una serie di passaggi, appunto per lanciare magari l'esterno, poi comunque si giocava con Lukaku, magari se verrà un giocatore diverso da Lukaku, si potrebbe fare un gioco diverso, perché Lukaku ti porta a lanciargli la palla e ad aspettarlo, aspettare che lui faccia salire la squadra, quindi vediamo anche che tipo di attaccante arriverà, però insomma più o meno quello è il gioco di De Rossi, appunto. Aggressione abbastanza alta, o comunque tante volte alta, volte meno, quindi abbastanza equilibrato in quel senso, nel senso che tendenzialmente si va ad aggredire l'avversario una volta per sta palla, quindi in fase di transizione negativa, però non sempre, non sempre, perché comunque dipende anche dal tipo di avversario, di schieramento in quel momento dell'avversario, di fase del gioco, quindi è un alleatore, almeno da quello che si è intuito, sia nell'esperienza della spalla, ma soprattutto in questi sei mesi, in questi quattro, cinque mesi, è un alleatore che ama un certo tipo di calcio, però appunto non disdegna anche a volte di modificare, e quindi mi aspetto comunque una Roma, non dico camaleontica, ma quasi, che comunque ogni tanto possa anche cambiare, non tanto il sistema di gioco, ma appunto l'atteggiamento, a volte più spavaldo, a volte meno, a seconda dell'avversario, naturalmente, però insomma, è stato abbastanza chiaro sul discorso voglio due ali che saltano l'uomo, anche tra le riserve, perché poi comunque la Roma farà sempre l'Europa League, che vorrà andare ancora una volta in fondo, ancora più in fondo rispetto all'anno scorso, e poi cercare di qualificarsi per la Champions, che comunque non ci abituiamo sempre troppo bene, insomma, per adesso conta quattro posti, poi se conterà ancora cinque posti, dipenderà dal percorso delle italiane, della Roma stessa, ma non solo, anche da tutte le altre, e quindi andiamo sulla lavagna tattica e poi torniamo qua in studio. Eccoci nella lavagna tattica della Roma, con De Rossi ovviamente c'è stato un cambio netto, rispetto alla gestione Mourinho, che aveva una squadra un po' più difensiva, e si affidava spesso proprio a Dybala e Lukaku in avanti. Qui chiaramente Dybala è sempre un giocatore in questo 4-3-2-1, 4-3-3 mascherato, se vogliamo, con Dybala chiaramente non fa l'esterno di fascia come dovrebbe farlo. L'anno scorso spesso ci si appoggiava su Lukaku, che poi magari la serviva, o per un insegnamento di Pellegrini, oppure la palla passava comunque per Dybala, che magari la dava un filtrante per Pellegrini, insomma, il fatto che Pellegrini abbia fatto molti gol da quando è arrivato De Rossi, è perché comunque era un giocatore che si spingeva molto. Avevamo visto anche nel derby, ad esempio, una squadra che aveva un El Sharawi spesso, che nel derby, nella partita con il Milan di Coppa, di Europa League, in cui El Sharawi spesso non faceva l'esterno, in faccia di non possesso non faceva il terzo attaccante, ma faceva quasi il quinto difensore addirittura. Quindi con Pellegrini molto più avanzato. Diciamo che spesso c'era uno scambio appunto tra Pellegrini, che qui vediamo come il numero 4 naturalmente, ma sarebbe lui ed El Sharawi che tornava indietro. Quindi in realtà in tante occasioni Dibala veniva qui al centro e Cristante andava sulla destra. Questo succedeva in fase di possesso, ma anche in fase di non possesso. Quindi con un Cristante spostato un po' sulla destra, a cui pareva essere che faceva da unico vertice, ma insomma rimaneva una mediana abbastanza interessante e bloccata, perché comunque anche De Rossi naturalmente sa che l'idea è quella di avere una difesa comunque abbastanza solida e cercare poi di ripartire, magari ripartire in maniera diversa, soprattutto mancando anche Lukaku. Sicuramente al di là di chi arriverà in attacco si cercherà un centravanti, forse con caratteristiche diverse rispetto al Belga e poi vedremo anche che fine farà Ebram. Insomma è arrivato l'Efe, poi ne parleremo in un video specifico, che secondo me potrebbe comunque fare più il lavoro di Pellegrini che non con caratteristiche anche diverse. Poi come detto appunto parleremo specificatamente di lui, però non vedo tanto un togliere cristante, che può essere un giocatore che a volte può non essere molto buono per i tifosi, può non accendere insomma l'entusiasmo degli spettatori e dei tifosi appunto, però secondo me è importante, molto importante quel suo lavoro, alternandosi anche sulla fascia, comunque tornare indietro per formare una diga difensiva, secondo me è un lavoro fondamentale, che non lo può fare se non in alcune circostanze naturalmente, ma parliamo di, noi stiamo parlando comunque a, diciamo in tante partite, difficilmente vedremo Pellegrini e l'Efe insieme secondo me, quindi nonostante tutto, a meno che non arrivi un giocatore che possa sostituire Cristante, non penso che lo vedremo molto fuori dalla squadra. Lo stesso discorso però appunto si può fare anche su El Sharabi, anche se De Rossi appunto a fine stagione scorsa ha detto che vuole giocatori che possano dare il cambio di passo, velocità, forse è stato un po' diciamo influenzato dal Bayern Leverkusen, che aveva Frimponga, aveva Grimaldo, aveva giocatori velocissimi, anche Stanisic, quindi comunque giocatori che appunto avevano un cambio di passo impressionante, e effettivamente questi giocatori alla Roma mancano, quindi qualcuno arriverà, poi bisognerà vedere se si arriveranno uno, due, se si potrà puntare sul Baldanzi come io spero, insomma maggiormente, non solo come vice di Bala, ma anche assieme, perché qualche volta hanno giocato assieme e secondo me non si pestavano i piedi perché appunto di Bala magari andava in una certa zona di campo e Baldanzi nell'altra, quindi è vero che sono due giocatori che forse possono sembrare, spesso toccano, almeno quando non giocavano insieme, toccavano le stesse zone di campo, ma possono anche, insomma secondo me convivere abbastanza bene, sarebbe buono, visto anche comunque l'investimento che ha fatto la Roma su Baldanzi, che non è affatto minimo e sperando appunto che sia anche un giocatore che possa darci una mano in ottica nazionale. Quindi come dicevamo, fase difensiva in cui sarà importante appunto, qualunque esterno verrà lì, dovrà fare lo stesso lavoro di El Sharawi, che non è, tante volte appunto infatti abbiamo visto una, quasi una difesa a tre, in cui, in cui saliva Kardorp, Selic o Christensen, insomma, che ha giocato a Angelinho, spesso faceva il terzo centrale, io credo che si continuerà su questo tipo di gioco con Angelinho, che comunque può avere, diciamo, licenza di avanzare, come è successo in tante occasioni, sulla fascia, perché comunque lui ha un bel cross, però in molte occasioni, in fase difensiva, vedremo Angelinho fare il terzo centrale, con El Sharawi fare il quinto centocampista, se vogliamo, e Christensen è qui tornare sul lato centrale, quindi una sorta di 3-5-2, che è il modulo che utilizzava spesso, comunque in cui si trovava spesso la squadra di Morghigno, e anche con De Rossi, insomma, non si è passati, anche se si parte da un iniziale 4-3-2-1, 4-3-3, tante volte potremmo trovarci in questa situazione, quindi queste più o meno sono le dinamiche tattiche della Roma di De Rossi, adesso torniamo in studio per i calci piazzati, che sono un punto di forza della Roma. Eccoci tornati, momento calci piazzati, calci piazzati, è una... sulla Roma, in realtà c'è poco da dire, perché era uno dei punti di forza, forse uno dei pochi punti di forza, secondo me, di Morghigno, nel senso che... però anche lì, detto, insomma, è vero, la ripeto sempre questa frase, però insomma, è dovuto anche al tipo di giocatori che ci sono, insomma, se te li batte Pellegrini, te li batte Di Bala, e hai al centro della difesa, al centro della... dell'area, giocatori come Mancini, che hanno un tempismo, uno stacco imperioso, Cristante, lo stesso Lukaku, quando c'era, Smalling, le poche volte che ha giocato, insomma, sono tutti giocatori, Llorente, sono tutti giocatori che comunque hanno nell'idea quella di muoversi bene in area di rigore sui calci piazzati, sugli angoli, staccare bene, magari prendere spazio con l'avversario e poi lanciarsi in avanti e avere un ottimo tempismo sul pallone, quindi diciamo, bene ha fatto De Rossi a non cambiare tanto le abitudini che aveva raggiunto con Mourinho, la Roma ha guadagnato, il discorso che facevamo anche sulle altre squadre, stessa cosa, stessa cosa a un livello più alto, insomma, per le squadre che si salvavano, stessa cosa può essere detta per la Roma, tante volte, quei 7-8 punti in più, che poi magari non sono serviti per la Champions, ma sono serviti magari per andare davanti nell'ultima stagione alla Lazio, alla Fiorentina, allo stesso Napoli, sono arrivati anche grazie ai calci piazzati, ci ricordiamo il famoso recupero di Udine, ad esempio, dove comunque sono stati presi due punti così, alla fine, ma insomma, negli anni di Mourinho ci sono stati tanti presi verso la fine, o comunque, grazie a dei calci piazzati, partite magari vinte 1-0, grazie a un gol sul calcio piazzato, quindi, sono fondamentali, e la Roma, negli ultimi 3-4 anni, indubbiamente, se non la più forte, è una delle 3-4 più forti in Serie A, forse anche a livello europeo, sui calci piazzati, quindi, lì c'è poco da dire, insomma, bisogna continuare su questa strada, se ne subiscono, magari se si può, visto comunque appunto la qualità che hanno i giocatori, dei giocatori, su questo fondamentale, qualcosa che può fare De Cossi, è cercare di limitare qualche gol in meno, subito, ma quelli segnati vanno benissimo, insomma, chiaramente se incrementati è sempre meglio, ma insomma, sono anni che, che la Roma segna tantissimo, e quindi questo è positivo, positivo anche se avete i difensori, ad esempio, della Roma, o centra di ammonte, un centra di vista come Cristante, che è sempre utile, oppure centra di vista appunto come Pellegrini e Paredes, che spesso li calciano e magari fanno l'assist, quindi dal punto di vista frattato al calcistico, sono molto utili anche loro, e quindi, così si conclude il video sulla Roma, e spero che vi sia piaciuto, ci vediamo quindi a prossimi video sulla Roma e sulle altre P19 squadre. Ciao, ciao a tutti!